Oggi in Commissione Sanità ho presentato una risoluzione per consentire la concessione di una premialità Covid a tutti i lavoratori dell'Istituto Zooprofilattico. Questo istituto ha lavorato non solo per la nostra regione nella fase pandemica ma a livello nazionale e i propri lavoratori, centinaia di lavoratori, si sono messi a disposizione con professionalità, impegno e dedizione. Questa dedizione e questo loro impegno è stato riconosciuto da tutto il sistema sanitario nazionale. Per questa ragione ho presentato l'interpellanza affinché la Giunta regionale possa deliberare affinché i 600 mila euro già accantonati dagli istituti possono essere erogati ai lavoratori.